e allora eccoci che siamo finalmente partiti per questa trasferta e infatti oggi andremo a fare un lavoro in trasferta cioè non nella nostra officina andremo infatti ne abbiamo già fatti un po' però mai documentati oggi lo documentiamo e quindi andiamo in un'altra officina a fargli un lavoro è un servizio che offriamo anziché far venire le persone da noi possiamo tranquillamente andare noi nelle varie officine e nelle varie città e oggi è il caso meno male siamo abbastanza vicini quindi ci vediamo tra poco lì cheat grazie al cazzo diamo un trasferta quindi vuol dire che non saremo nella nostra officina grazie al cazzo dizionario trasferta uguale andare in un'altra città poi ho il caldo lo smizzo ma conne traffiucendo guarda libero facciamo fermi ma connina te la volete usare sta bicicletta ve la riparo a che fa sennò andiamo usate le biciclette e meno macchine se già troppo graffi immobile fiorentina si mi censurano per capri d'arte non la devi usare da sempre spalla in fiorentinoide che tu c'hai da fa che tu ci voleva un badame la fuma ora badame la fuma e che sei grullo e che sei grullo la bicicletta la fuma guarda lì che sbriciolona e le fatte no le fatte come le dicono dopo si va a mangiare la sbriciolona dopo esser caduti dall'amici sbriciolona sbriciolona dopo esser caduti dall'amici che ti sei sbriciolato bianca vorrebbe sotto questo cordone mio bello stufato bè se fai regaliamo una manetta fai fare la live in macchina ci abbiamo solo le taglie qui le taglie a M dai regaliamo una taglia M una taglia M ma non a quelli che stanno guardando questo video la live le a queste delle live a me ed eccoci finalmente arrivati al negozio a fargli la riparazione in trasferta 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 e dopo aver finito il lavoro ci siamo concessi ci siamo concessi una schiacciatina di bada come non la fuma 11 più attenzione ben due euro per bere l'acqua d'acqua e ora vado solo di come imbrogliato che sai come i merendini quelli lì della kidder che apri non c'è niente siete i ducati scramble della situazione allora siamo andati a fare il lavoro in trasferta poi ci siamo mangiati anche un bel panino e ora siamo a giro per i vari negozi di firenze per continuare a lavorare per voi bene allora vi aggiorneremo strada facendo io vi saluto per ora augurandovi una molto buona giornata noi ci vediamo la prossima facciamo niente